Questo video riguarda i migliori 3 scopa elettrica. Il vincitore della qualità è il Nauxio aspirapolvere. Aspirapolvere senza fili con motore potenziato da 400 W fornisce un'aspirazione potente fino a 33 Kp, in grado di aspirare istantaneamente detriti, polvere, sabbia, peli di animali domestici, particelle di grandi dimensioni e così via. Offrendovi un'esperienza di pulizia silenziosa ed efficiente. Questo aspirapolvere senza fili è dotato di una batteria di grande capacità, la quale permette un tempo di funzionamento fino a 50 minuti e richiede solo 4 ore per una ricarica completa. Aspirapolvere senza fili è dotato di un touchscreen a LED, in grado di visualizzare la potenza attualmente disponibile. Con un sistema di filtraggio di precisione a 4 strati e la funzione di rilevamento sensibile della polvere, il che non solo può rimuovere il 99,99% di polveri sottili, pollini e allergeni, ma anche assicurare che la polvere non ritorni nell'aria per causare inquinamento secondario. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Grinote Aspirapolvere. Con un motore brushless ad alta efficienza, questo aspirapolvere senza fili potente ha due livelli di potenza di aspirazione in modalità standard e modalità forte. Questo scopa elettrica senza fili potente ha un peso netto di soli 2,64 litri. È possibile portare questo scopa elettrica senza fili leggerissima su per le scale senza fatica e pulire gli interni delle auto e le scale strette e piatte. Livello di rumorosità molto basso quando l'aspirapolvere senza filo in modalità standard non disturba i coinquilini e i membri della famiglia nella stessa stanza. La scopa elettrica senza sacco Grinote GSC 50 è dotata di testa della spazzola multiple. Possono essere combinati in diverso aspirapolvere portatili, in modo da poter pulire facilmente soffitti, tende, divani, letti, tappezzeria, auto e tutti gli altri angoli. Il vincitore del premio è il praticare aspirapolvere. Questo aspirapolvere verticale senza fili ha una potente potenza di aspirazione di 20kp a 180W. Il potente tubo telescopico dell'aspirapolvere può aspirare detriti grandi e fini. Lo schermo dell'aspirapolvere senza fili senza sacchetto può mostrare chiaramente la carica residua, che è più favorevole ai lavori di pulizia. La scatola della polvere da 1,2 litri può contenere più polvere e spazzatura. La spugna filtrante dell'aspirapolvere senza fili per peli di animali domestici può pulire la polvere minuscola, i rifiuti e i fumi di scarico, in modo che lo scarico dell'aspirapolvere venga pulito silenziosamente. La silenziosa testina di aspirazione senza fili può ruotare di 180 gradi a sinistra e a destra e di 90 gradi su e giù, il che consente all'aspirapolvere verticale di manovrare gli ostacoli wireless e gli spazi ristretti. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.